Nelle ultime due settimane l'emergenza terrorismo ha ovviamente, come da recito a tendersi, messo un po' la sordina alla questione dei migranti, alla questione di chi attraversa il Mediterraneo in vari modi e questo è di per sé abbastanza logico e scontato, ma da un altro punto di vista aggiunge preoccupazioni a una situazione che già di per sé è preoccupante, infatti siamo ormai quasi a fine novembre quindi siamo ormai in pieno inverno e le preoccupazioni per queste popolazioni, per questa gente in movimento non fanno che crescere, l'attraversamento del Mediterraneo diventa certamente più difficile nonostante le nuove tecniche, ma questi attraversano con barche che sono più o meno al livello di quelle che si usavano ai tempi di Lepanto e poi si muovono a piedi, quindi al freddo, man mano che risalgono l'Europa incontrano sempre tempo peggiore e anche nei paesi d'accoglienza, le strutture d'accoglienza saranno forzatamente quelle che sono, non solo, ma se alcuni paesi dovranno mettere più mezzi per la sicurezza, più mezzi per la polizia o anche più mezzi per la cultura, come sembrerebbe voler fare l'Italia, sono poi mezzi che mancheranno, risorse che mancheranno nell'accoglienza di queste popolazioni che in questo momento rischiano di essere in giro in modo assai precario. D'altra parte la situazione non sembra migliorare in nessun modo, anzi gli avvenimenti degli ultimi giorni sembra che ci si muova in tutte le direzioni, non sembra essere in corso nessuno sforzo serio né dal punto di vista diplomatico né da quello militare di risolvere le situazioni, insomma anche la tanto celebrata offensiva di Putin in Siria non sembra dare grossi risultati, non solo adesso i turchi si sono messi a sparargli addosso battendogli degli aerei, l'offensiva francese è quella che è, i veri interventi che forse avrebbero efficacia non vengono fatti, non solo i giornalisti ma anche un personaggio come Prodi ha detto e si è chiesto come mai non vengono bombardati i pozzi di petrolio o quantomeno le vie di trasporto che metterebbero nel giro di pochissimi giorni in ginocchio l'Isis. Quindi la situazione è estremamente confusa che rischia di alimentare ulteriori tensioni, poi in alcuni paesi adesso ci saranno delle elezioni che rischiano di dare dei risultati che non aiuteranno a calmare le acque e in tutto questo ci rimettiamo tutti, ci rimettono i migranti perché sono in quella situazione, ci rimettiamo noi che siamo vittime dirette o indirette del terrorismo o perché ce ne stiamo dentro o perché semplicemente aumenta la paura, diminuisce la libertà di muoversi e quant'altro, se non ci si siederà finalmente davvero e seriamente a un tavolo a discutere, non si parlerà con una certa trasparenza di quelli che sono gli obiettivi, temo che le prossime settimane, i prossimi mesi saranno ancora estremamente difficili. Grazie.